L'ho trasmesso ieri al DAGLE e al Presidente del Consiglio dei Ministri, che a sua volta l'ha trasmesso a tutti i ministri interessati, oltre a quelli che si occupano della materia. Oggi il Presidente del Consiglio, durante il Consiglio dei Ministri, ha dato comunicazione della cosa e abbiamo istituito un tavolo di lavoro tecnico composto dagli uffici del Ministero della Salute, del MIUR e della Presidenza del Consiglio per lavorare su questo testo base e arrivare a un testo definitivo per il prossimo venerdì e quindi per il prossimo Consiglio dei Ministri. L'obiettivo che tutti quanti noi abbiamo è quello di mettere totalmente in sicurezza la salute degli italiani. Come sapete il calo della copertura vaccinale è un calo molto preoccupante. siamo sotto le soglie sia per i vaccini cosiddetti obbligatori sia per quelli cosiddetti raccomandati, ma quando le soglie sono come quelle che abbiamo sul morbillo che hanno provocato in Italia al momento più di 2200 casi, quindi siamo oltre statisticamente la normalità che avviene fisiologicamente nei paesi, scatta una condizione di grave preoccupazione da parte di tutti i tecnici del Ministero della Salute. Noi in questi anni abbiamo lavorato moltissimo per lavorare sull'informazione riguardante i vaccini per togliere qualsiasi tipo di pregiudizio che non ha nessuna rilevanza scientifica né aderenza alla realtà. Abbiamo fatto il piano nazionale dei vaccini approvato insieme ai livelli essenziali di assistenza che è il più grande piano nazionale vaccinale gratuito dei paesi europei però tutto questo non basta e perché purtroppo i dati non ci confortano.